Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video di calcio mercato dedicato al Genoa e al colpo, ormai un po' vecchio però, porto il mio commento su quest'operazione di mercato relativo a Ruslan Malinovski che dopo un anno sabbatico diciamo in esilio in quel di Marsiglia torna in Italia con la maglia del Genoa. In questo video vi vado a dire la formula con cui il giocatore si è trasferito al Genoa e vi vado poi, ripercorrendo brevemente la sua carriera, a dire quali sono le sue caratteristiche tecniche, i suoi punti di forza, quello che può dare al Genoa, dove può giocare nello scacchiere tattico di Girardino se il suo arrivo comporta qualche modifica dell'assetto tattico, del modo di giocare. Ha giocato la sua prima partita a titolare all'Olimpico la seconda giornata contro la Lazio nella vittoria per 1-0, è stato secondo me il peggiore in campo. Comunque, insomma, andremo a fare tutte le considerazioni tecnico-tattiche della situazione. Concluderò il video con un voto da 0-10 che sintetizza il mio pensiero su quest'operazione di mercato e con una chicca fantacalcistica per gli appassionati di questo gioco. Allora, cominciamo con la formula. Il giocatore arriva dal Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Quindi la formula assolutamente migliore possibile per chi compra, perché è una formula che non ti comporta costi nell'esercizio attuale di questa stagione e che ti permette di poter valutare il giocatore all'interno del tuo gruppo squadra per poi eventualmente nella stagione successiva poterlo confermare dopo aver visto qual è il valore del calciatore o dopo aver visto i tuoi risultati sportivi, perché magari in base a dove ti piazzi in classifica può anche essere conveniente o meno riscattare un certo calciatore. Quindi è l'operazione migliore possibile. La cifra del riscatto stabilita con il Marsiglia è di 10 milioni di euro. Questo è quanto eventualmente il Genoa dovrà pagare nelle casse del Marsiglia per riscattare definitivamente il calciatore. A fine stagione. Ripercorriamo brevemente la carriera, ma il nostro è un classe 93, quindi a 30 anni, giocatore ucraino, cresciuto nelle giovanili dello Shakhtar, che non ha mai avuto particolare spazio nello Shakhtar che non ha mai puntato su di lui, nonostante abbia vinto il premio di miglior giocatore ucraino giovane in patria. Con due prestiti, prima al Sevastpol e poi allo Zoria, si è messo in luce tanto da essere individuato dal Genk. Squadra belga che lo ha individuato appunto per puntare su di lui, lo ha preso in prestito dallo Shakhtar, si è ambientato benissimo nel campionato belga e nel Genk, quindi a fine stagione poi il Genk lo ha riscattato dallo Shakhtar per 2 milioni di euro. Nel Genk ha giocato 3 stagioni, collezionando 107 presenze e se si considerano anche le partite nelle coppe sono 135 presenze condite con 30 gol, Malinowski al Genk giocava quasi mediano, mediano-mezzala, era rigorista, era un riferimento tecnico della squadra, e quindi Sartori all'Atalanta, che ha diciamo nel Belgio, nell'Olanda, diciamo le nazioni di riferimento per i suoi colpi di mercato, è andato ad acquistare Malinowski nel 2019 mi pare, quindi quando aveva 26 anni, per circa 13-14 milioni di euro. Questo è quanto l'Atalanta pagò Malinowski. All'Atalanta nel sistema di Gasperini nel 3-4-2-1, ovviamente Malinowski è stato schierato come trequartista. La coppia di mediani all'epoca, quella di riferimento, era Deron e Froiler, e quindi Malinowski era il giocatore che si alternava con Ilicic, con Gomez, con Pasalic, insomma con i giocatori sottopunta. Principalmente giocava trequartista destro, il ruolo che ha ricoperto Ilicic, insomma, nei suoi migliori anni con l'Atalanta. Sebbene si vada a vedere i numeri di Malinowski con l'Atalanta, che nei suoi tre anni e mezzo ha collezionato ben 143 partite e 30 gol, un giocatore a cui i tifosi dell'Atalanta hanno voluto molto bene, un pupillo di tanti fantallenatori, Gasperini non è che stravedesse per lui, tant'è che spesso lo sostituiva, lo faceva partire dalla panchina anche quando era in un buono stato di forma, quando è stato ceduto non ha speso belle parole per lui, insomma, non ha avuto un buon rapporto con Gasperini, nonostante poi, ribadisco, se si vada a vedere i numeri, le stagioni di Malinowski all'Atalanta sono assolutamente valide. Però si sta comunque parlando di un giocatore che non è mai entrato nel cuore, non ha mai fatto breccia nell'allenatore dell'Atalanta. E' quindi andato al Marsiglia, dove è allenato da Tudor, Marsiglia che ha fatto un'ottima stagione, non è riuscita a integrarsi particolarmente, ha fatto fatica a trovare continuità, a mantenere i numeri che ha sempre avuto in carriera, sia con il Genk che con l'Atalanta, ma anche con lo Zori aveva questi numeri qui, quindi un calciatore che ha fatto fatica, diciamo, a confermarsi e quindi il Marsiglia dopo una stagione lo ha rimandato in Italia, dove poi tra l'altro il giocatore è tornato molto volentieri. Andiamo quindi alle sue caratteristiche tecniche, calciatore che lo conosciamo bene, ha giocato in Italia, quindi non è che mi sto a dilungare molto sulle caratteristiche tecniche, vi dico un pochino quelle che sono le mie considerazioni. Ovviamente per me il ruolo ideale è il trequartista, comunque la sottopunta, deve giocare nella zona centrale del campo, non può essere decentrato troppo, andare troppo sull'esterno, perché è un giocatore che annusa un po' come lo squallo col sangue, e lui annusa la porta, quindi se tu lo decentri, lo allontani dalla pericolosità, ha un ottimo piede sinistro, è anche uno splendido battitore di calci piazzati, il Genoa è fornito sotto questo punto di vista, diciamo che Gudmundsson è più bravo ovviamente con il piede destro, e Mainoski può essere il tiratore per eccellenza con il piede sinistro, ma c'è anche Martin che nei piazzati è molto bravo, l'anno scorso mi sembra che abbia fatto tre o quattro gol su calcio punizionale diretto, quindi insomma ci sono alternative dai piazzati assolutamente, però Mainoski ha un piede sinistro veramente educato, ha questa proverbiale, insomma, molto famoso per la potenza del calcio, uno forse dei migliori tiratori al mondo dalla lunga distanza, perché riesce a calciare con estrema potenza, ovviamente col piede forte, il sinistro, riesce a calciare con estrema potenza, mantenendo però le traiettorie basse, ha proprio la tecnica di calcio perfetta Mainoski, è raro vedere lui calciare e tirare alto, perché quando uno calcia di potenza spesso, col corpo all'indietro, calci il pallone dal basso perché vuoi dare forza, il pallone schizza e va in curva, Mainoski è raro che tiri alto, tutt'al più tira storto, però, perché magari cerca l'angolo e non lo riesce a trovare, però l'altezza, l'altitudine del pallone la trova quasi sempre, quindi ha proprio la tecnica di calcio ideale ed è un calciatore che si è fatto riconoscere per questa cosa qui, tant'è che nel manifesto di presentazione al Genoa l'hanno rappresentato con una gamba bionica, perché appunto ha questa potenza clamorosa al tiro. Però Mainoski non è solo tiro, cioè ovviamente è diventato famoso per il tiro dalla distanza e è un'arma che farà molto comodo al Genoa, perché ti può permettere di sbloccare partite difficili, perché è un giocatore che ha la soluzione proprio lampo, quindi chiaramente questo è il suo punto di forza, il suo punto di forza è il tiro dalla distanza, però non è solamente tiro, perché è un giocatore che ha una buonissima tecnica, di base nel controllo palla, ha anche l'assistenza, sebbene quando arriva ai 30 metri il primo più insieme sia sempre quello di trovare lo spazio per calciare, quindi ha anche le capacità per fare l'assist, ne ha fatti tanti in carriera anche con la maglia dell'Atalanta in Serie A, perché è un trequartista poi alla fine di natura, per cui è un giocatore che l'imbucata, lo spazio, il filtrante, il corridoio lo vede e se è posizionato bene col corpo sul suo piede ha anche la capacità per poter dosare bene i passaggi. E quindi è un calciatore che sulla trequarti ti offre tante soluzioni che effettivamente al Genoa mancavano, perché Gudmunds è un giocatore che a me fa impazzire, però ha altre caratteristiche, è un giocatore che è più bravo a scendere di posizione, a fare strappi a centro campo, portare sul pallone, dribblare, andare sull'esterno, crossare, è un giocatore che ha caratteristiche diverse, è un giocatore di progressione, Mainowski gioca molto da fermo, è difficile vederlo particolarmente mobile con la palla tra i piedi, è un giocatore che quando gli offre il pallone lo sposta poco, sa calciare da fermo, sa, vede il calcio da fermo, non è un corridore, sembra quasi uno sfaticato in campo, ma in realtà è uno che ha questo modo di approcciarsi alle partite, e questo ovviamente non dipende neanche dalla condizione atletica, è proprio il suo modo di interpretare il calcio, cioè uno che si accende con la palla tra i piedi, ma si accende da fermo, perché il dinamismo spesso lo confonde, gli fa perdere l'equilibrio, la coordinazione, quindi è un giocatore che forse è per questo motivo che non è riuscito a far breccia in Gasperini, che invece chiede ai propri calciatori tanto movimento, soprattutto senza palla, Mainowski questo movimento non lo ha mai fatto, e probabilmente, io penso sia per questo che Gasperini poi non ha mai puntato seriamente su di lui, nonostante poi a livello di numeri fosse il migliore del reparto, a livello di goal e di assist, perché ti faceva delle giocate che gli altri non si possono nemmeno immaginare, però aveva questa discontinuità all'interno della prestazione in partita, che ha un allenatore molto pignolo come può essere Gasperini, fermo restando che poi con tutto il rispetto per il Genoa, l'Atalanta aveva obiettivi diversi, cioè puntava alla Champions, quindi anche il livello della squadra e delle squadre affrontate nelle competizioni europee, soprattutto era diverso da quelle che affronterà il Genoa con l'obiettivo di una salvezza con ampio margine, perché l'obiettivo del Genoa non è solo salvarsi, ma è salvarsi bene, no? Quindi Mainowski ovviamente calato nell'ambiente Genoa è un top player, nell'Atalanta non dico era uno dei tanti, però era uno fra un bel po', insomma erano tanti i calciatori dell'Atalanta, c'era il Gosens, c'è Zapata, c'era Etoloi, c'era Atebur, Freuler, Deron, cioè era una squadra che di calciatori di alto profilo ne aveva, non è che c'era soltanto Malinoski, il Genoa di calciatori del livello assoluto di Malinoski ne ha forse tre, quattro, quindi è sicuramente anche un ambiente dove può riemergere anche a livello proprio di fiducia in se stesso, perché avere questo conflitto con l'allenatore all'Atalanta e poi aver fatto questa esperienza in Francia non particolarmente felice può anche avergli fatto perdere qualche sicurezza, il Genoa sicuramente gli regalerà più convinzione e può tornare il calciatore devastante e decisivo che era stato nei primi due anni e mezzo a Bergamo. Quali sono i suoi punti deboli? A parte il poco dinamismo che vi dicevo prima, perché è appunto un calciatore che senza palla tende a stare piuttosto statico, è molto avvezzo al cartellino giallo, perché non è bravo nel marcare, non è bravo nell'affondare i teckel, spesso arriva in ritardo, molto spesso prende gialli veramente stupidi, sono tanti gialli evitabili, gratuiti, che ha preso in carriera per falli tattici che però non erano intelligenti, per reazioni, giocatore che mentalmente a livello proprio di lettura tattica in fase di non possesso lascia un po' a desiderare, ha un piede destro di cui si fida veramente poco, quindi risulta spesso prevedibile, quando gli avversari lo marcano, lo contrastano, li vanno incontro, immaginano quale può essere il movimento che fa Malinowski, quindi alcuni difensori, alcuni centrocampisti mediani potrebbero bloccare sul nascere le sue idee, perché sono abbastanza leggibili, di facile lettura. Inoltre è un calciatore che è anche abbastanza esposto agli infortuni, ne ha avuti tanti in carriera, mai infortuni particolarmente gravi, ma fastidi muscolari, cose, sapete quegli infortuni piccoli che gli fanno saltare un paio di partite, poi rientra, gioca cinque partite, poi ne salta un'altra, cioè non è uno che ti dà la garanzia della titolarità fissa, e che per varie ragioni deve ritrovare la condizione ottimale fisica e mentale. Secondo me Genova è la piazza giusta, è una piazza passionale, calorica, che quindi trasmette quelle emozioni che a un calciatore emotivo come lui possono dare gioie e dolori ovviamente, però quello ovviamente dipenderà dalle sue prestazioni, dalle prestazioni del genere, dai risultati, no? Perché poi ambienti caldi come quelli del grifone, come ce ne sono altri in Italia, sono armi a doppio taglio, nel senso che dipende come vanno le cose, può essere un dodicesimo uomo, delle volte invece sono un'oppressione, no? È normale, è così dappertutto. Però Genova è una piazza particolarmente calda, c'è tanto entusiasmo per questo ritorno in Serie A, che è arrivato insieme alla retrocessione quasi fallimento della Samp, quindi lo stadio è sempre pieno, e sarà un anno importante per Malinowski, anche perché è arrivato a un'età, è a 30 anni, dove, non dico debba consacrarsi, perché lui si è già consacrato al Genk e poi all'Atalanta, no? Non è un giocatore che ha bisogno di consacrarsi, ha già fatto vedere quanto vale, anche con la maglia della nazionale, insomma, ha collezionato tante partite, sono 55 presenze in nazionale, quindi è un giocatore che non è che è da scoprire, però si deve un po' ritrovare. Ecco, si deve un po' ritrovare a 30 anni in una piazza come Genova, è l'occasione per dare una seconda linfa alla sua carriera, che può essere anche determinante, decisiva, definitiva, perché poi il Genoa ha il diritto di riscatto, e Genoa è una squadra ricca, perché Seven 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 Partners sono una proprietà ricca, che si può permettere stipendi importanti, perché anche Messias, Martin, Strootman, sono tutti calciatori che hanno stipendi, insomma, considerevoli per una neopromossa, e Mainoski è tra questi, Retegui stesso, però è una proprietà che si può permettere anche di pagare a cartellini, quindi Mainoski ha tutte le possibilità per rimanere al Genoa, e chiaramente dipenderà molto dalla sua stagione. Dove penso che giocherà? Ovviamente sulla tre quarti, e Genoa, se dovesse confermare il 3-4-2-1 di queste prime uscite, o comunque il modulo, diciamo, di riferimento anche di Girardino, giocherà insieme a Gudmundsson dietro a Retegui. Io immagino questo come tridente, con Mainoski come interno destro sulla tre quarti, Gudmundsson come interno sinistro un pochino più arretrato, e Retegui come riferimento d'attacco. Poi i mediani possono essere Torsby, Bader, Strothman, Frendrup, anche se Frendrup è molto offensivo, e sugli esterni o Efti, Sabelli da una parte, o Martin, e dall'altra ci può giocare anche Vasquez, anche se Vasquez ti dà l'opportunità della fisarmonica, della difesa a tre e mezzo. Tra l'altro l'esterno destro di centro campo lo può fare anche Frendrup, quindi insomma ha tante frecce al suo arco il buon Girardino, ma Linozki chiaramente sarà titolare del Genoa. C'è anche Messias, che è un calciatore che il Genoa paga tanto di stipendio, un calciatore che ha dimostrato soprattutto con la maglia del Crotone, ma anche con quella del Milan, di essere determinante nel nostro campionato, quindi Messias il suo spazio l'avrà. Io non escludo che in determinate circostanze il Genoa possa addirittura schierare un 4-2-3-1, con magari Efti o Sabelli come terzino basso a destra, Vasquez come terzino basso a sinistra, che ti permette di fare un'eventuale difesa a tre in alcune fasi della partita, una coppia di mediani tosti, come potrebbe essere Torsby-Badel o Torsby-Strotman, che comunque hanno tante capacità di interdizione, e un trittico dietro a Retegui, formato da Messias a destra, Gudmundson a sinistra e Malinowski nel mezzo, che è un trittico che ti offre tantissime soluzioni, però solo a tre quarti sono pericolosissimi, quindi in alcune partite, o magari a gara in corso per recuperare dei risultati, o in partite che Genoa magari reputa essere alla portata, potrebbe anche iniziare con un modulo di questo tipo, che è molto intrigante. Quindi, che voto vado a dare a questa operazione? Ma diamo un bel otto e mezzo, nove meno, siamo insomma in questo range perché il calciatore è forte, e il calciatore costa poco, perché 10 milioni di cartellino è vero che ha 30 anni, quindi difficilmente rientrerai dell'investimento, a meno che non fai una stagione da fenomeno, lo paghi 10 per rivenderlo subito l'anno dopo a 25 in una inglese, per dire, però difficilmente rientrerai dell'investimento, però 10 milioni per un calciatore che ha almeno altri tre o quattro anni di carriera ad alti livelli, che nel nostro campionato ha dimostrato di essere un top, e che nell'ambiente giusto può esprimersi al meglio, e quindi per me è un acquisto incredibile, che però, opinione mia personale, nel 3-4-2-1 cozza un po' con Messias, nel senso mantenendo Goodman, io quando ho visto Malinoski e Messias insieme ho detto, io ora vendono Goodman, invece Goodman, ora siamo anche un poche ore alla fine del mercato, penso che rimarrà al Genoa, e ecco, Malinoski e Messias, considerato lo stipendio, i costi dell'operazione, averli entrambi, probabilmente uno partirà quasi sempre dalla panchina dei due, credo Messias, tra i due, e diventa, cioè, è una scelta forte, è una da società forte, però, si poteva ponderare meglio, secondo me, gli investimenti, soprattutto dal punto di vista del Montengaggi, però, sull'affare Malinoski in sé, ho veramente poco da recriminare, non do il 10, perché appunto c'è anche Gian Messias, e quindi crea un po' di abbondanza lì, e tra l'altro una squadra, piccola, permettetemi di dire, perché poi se si legge i nomi, non è piccola, però, una squadra neopromossa, che ha come obiettivo una salvezza tranquilla, un calciatore come Malinoski, un po' nobile, un po' borghese, un po' che cammina per il campo, costringe gli altri a fare molto più lavoro, sporco, quindi, diciamo che non, poteva andare bene in una Roma, ecco, Malinoski come caratteristiche, perché lo spirito di sacrificio, non è il suo punto di forza, e in squadre neopromosse, lo spirito di sacrificio è necessario, quindi, il fatto che lui difficilmente si ambienterà, sotto questo punto di vista, perché non lo ha mai fatto in carriera, impone ai vari Gudmundson, Frendrup, Torsby, Retegui stesso, molto più lavoro sporco, di quello che farebbero, se ci fosse al loro fianco, un calciatore un pochino più, dedito al sacrificio, come potrebbe essere Messias, però, il calciatore è indiscutibile, dal punto di vista, della qualità assoluta, per cui per me, è un 8,5-9-9, Per quanto riguarda il fantacalcio, ovviamente è un semi-top, quindi, sta sotto i top assoluti, come potrebbero essere Luisa Alberto, Coop Miners, questi calciatori qua, sono in prima categoria, Pulisic, dove è l'istato centrocampista, sta sotto questi calciatori, ma è immediatamente sotto, cioè, è un giocatore che si può mettere tranquillamente, a livello dei, faccio di pensare, dei pellegrini, è un giocatore che si può mettere, a livello dei, dei frattesi, dei scialanoglu, dei rabbiò, cioè, si può mettere tranquillamente, a livello di questi, e quindi, nelle aste, va pagato, quanto questi, quindi, se nel, nei vostri fantacalcio, perché poi ogni fantacalcio, ha, alle sue, ai suoi parametri, però, considerate che Malinoski, a mio parere, vale quanto un rabbiò, a livello, proprio, economico, da fantacalcio, è un giocatore che vi assicurerà di giocare quasi sempre, se sta bene fisicamente, e che quando gioca, sarà molto discontinuo a livello di valutazioni, perché avendo questa attitudine, a giocare da fermo, a prendere tanti gialli, e, quando non trova la giocata bella, il tiro, l'assist, e, cioè, ci sta che vi prenda il 5, addirittura il 4 e mezzo, con l'ammunizione, questo tenetene di conto, però, alla fine della stagione, secondo me, a maggior ragione, se gli verranno fatte battere le punizioni, almeno, le punizioni dal lato destro del campo, quelle dal lato sinistro, penso rimarranno a Gudmundson, e, io penso che, alla fine della stagione, quei 7-8 gol, e, 4-5-6 assist, ve li faccia, quindi, io penso sia un giocatore che, a livello di numeri, avrà poco da recriminare, agli altri centrocampisti del campionato, e quindi, come tale, è un semi-top del fantacalcio, non è un top, perché non gioca in una top, però è un giocatore che si può mettere, tranquillamente, al pari anche, degli strefezza, degli orsolini, cioè, secondo me, va su questo range qui, appunto, Rabiot, giocatori di pellegrini, frattesi, giocatori di questo livello, quindi, per me, Malinowski è un semi-top, e, ovviamente, è consigliato al fantacalcio. Il mio video si conclude qua, mi invito a scrivere nei commenti, cosa ne pensate di questa operazione, chiaramente, so di essere arrivato in ritardo, l'ufficialità del colpo, è di tipo, quasi due settimane fa, però, purtroppo, al lavoro, sono stato abbastanza oberato, a livello di orari, e di impegni lavorativi, quindi, sono stato, ho avuto poco tempo libero, sicuramente, mi metterò in pari, perché ora, il campionato si ferma, quindi, ora vi porterò commenti, dei giorni di Champions, guardo, ora guardo la mia Fiorentina, in conferenza, cosa combina, forse porto un video, anche su quello, poi c'è la, la terza giornata di Serie A, consigli per il fantacalcio, bla bla bla, finita la giornata di Serie A, mi metto in pari con tutti i colpi di mercato, sono veramente tanti, ve ne dico alcuni di quelli che porterò, mi è stato chiesto, Rovella, Barrenecea, Prati, Fabian, Martegani, Carson, Serdar, c'è da parlare di, di, di Sule, di Lirola, c'è, c'è Vietesca, che è andato al Cagliari, e, Sazonov, che è andato al Torino, insomma, ci sono tante operazioni, molto interessanti di cui parlare, per cui, ne ho, di video da portare, durante la sosta per le nazionali, un carissimo saluto a tutti, ciao!